accenditi accendi si 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 è acceso maniaci del wrestling ma soprattutto fan della WWE forse questa settimana Smackdown non ho affatto favile sul piano lottato ma comunque rimango ottimista e più fiducioso verso lo show blu vorrei anche dire una cosa prima di passare alla recensione non c'entra col wrestling c'entra col mio canale un mio amico mi ha detto un mio amico che conosco davvero mi ha detto ma perché tu non fai mai recensioni sia di rock che di Smackdown in una settimana e sfatiamo questa cosa anche se ci tengo a dirvela e non le faccio per due motivi uno perché un video ha bisogno di tempo per fare visualizzazioni almeno nel mio canale è così perché raggiunge, cioè fa le views dopo due o tre giorni più che non fa views ad esempio il video dell'albero di Natale ha fatto 110 views in tre giorni quindi ha bisogno di un po' di tempo per fare le visualizzazioni due veramente a volte spesso e volentieri non ho il tempo di registrare Smackdown stavolta mi è capitato di avere tempo quindi non perdo l'occasione il recensisco Smackdown quindi quando non ho occasione faccio anche questo comunque la puntata si è aperta con il nuovo Daniel Bryan da Hill con anche una nuova maglietta che purtroppo non ha presentato in questo Smackdown che ho scritto Yes is Dan molto bella si è presentato introducendo sulla rampa Mustafali direttamente da 205 Live non ho ben capito questa scelta ma comunque ho deciso di godermi il match così com'era senza perderci la testa Mustafali ci ha provato a mettere il suo il match è stato abbastanza spettacolare ovviamente vinto da Daniel Bryan che alla fine ha infierito ancora con una specie di figure four sulla rampa di ingresso Mustafali è stato provocato inizialmente è stato dato dello stupido e alla fine ha deciso di sfidare Daniel Bryan in un match uno contro uno è stata anche una puntata abbastanza piena di segmenti parlati che comunque sono stati anche ben fatti ben strutturati quindi non mi lamento abbiamo avuto la Red Battle fra gli Usos e il The Bar con il New Day e con Big E che sembrava vestito da da quelli che vanno a fare le onoranze funebri cioè non so come si chiamino oppure da Reverendo come ha detto il buon Luca Franchini comunque battaglia rap che ovviamente è finita con un risuolo generale dove sono stati quelli del The Bar ad avere l'ultima parola dico solo che il cappello di Dream Mysterio in questa faida perché come spiegai un po' di tempo fa mi sarebbe piaciuto vedere la maschera Dream Mysterio in palio e fare questa faida con Randy magari proprio a faccia nuca senza la maschera perché ormai il volto Dream Mysterio è un mito che conosciamo già tutti quindi è inutile comunque Randy Orton fa il suo classico promo da Hill ma alla fine viene interrotto Dream Mysterio che con una sedia si fa giustizia da solo e è lontana la vipera sullo stage abbiamo anche avuto un match fra The Miz e Shane O'Meck contro due competitori locali di Las Vegas il quale Shane McMahon riesce a mettere una triangol ciocco uno dei due malcavitati a farlo cedere ma in realtà era stato The Miz a pagare questi due wrestler locali e a fargli fare questa comparsa per cercare di creare una squadra con Shane McMahon che alla fine del backstage si dimostra contrario ancora una volta a questa scelta comunque abbiamo avuto anche il match fra Jeff Hardy e Rusev contro Samoa Joe e Shinsuke Nakamura mi continua sempre ad interrogare sul regno titolato degli Stati Uniti di Shinsuke Nakamura ma preferisco non interrogarmici troppo perché veramente non c'è una spiegazione logica il match viene vinto da Rusev che mette il segno proprio un super kick ai danni del campione degli Stati Uniti era anche stato annunciato il main event un main event il rematch di Vrestalmania 34 fra l'imperatrice del domani Asuka e Charlotte Flair con Becky Lynch al tavolo dei commentatori questo senza dubbio è il match della serata le ragazze non si sono risparmiate è stata Charlotte Flair a dominare per lo più la parte del match mettendo a segno parecchie mosse di sottomissione e dominando praticamente i tre quarti di tutto l'incontro se dobbiamo dirla tutta alla fine della fiera in un momento che le due ragazze sono rotolate fuori dal ring Charlotte Flair ha preso una mazza e l'ha si è fatta squalificare suonandola dietro la schiena di Asuka si è intromessa anche Becky Lynch che tuttavia in un primo momento è sembrata averla meglio ma alla fine è stata Asuka ad avere l'ultima parola a prendere la mazza e a darla addosso a tutte e due ed è proprio lei ad arrivare col vento in poppa a TLC ma non credo sarà lei a vincere tuttavia quindi il mio pronostico per TLC lo dico già adesso detto che mi trovo in tema il mio pronostico è Charlotte che diventerà almeno per l'ottava volta campionessa femminile niente ragazzi anche questa recensione è giunta al termine lasciate un like a questo video continuate a seguirmi e aspettiamo questo TLC che stranamente parto con hype o hype molto stranamente